E' il tempo di affermare i nuovi principi. Loro credono di spaventarci, ma noi non ci spaventiamo. Non è un discorso di fede, ma di etica. Non scherzate con me. Ho fatto solo ciò che era giusto. Mi stanno lasciando solo. Io sono niente rispetto a quello che abbiamo creato e che non riuscirete a distruggere mai. Chi non vuol sentire la nostra parola sentirà sicuramente il nostro bastone. Ti toglierò tutto, come tu hai fatto con me. Dove erano i tuoi socialisti quando mi morivano parenti e amici davanti agli occhi? Erano tutti al fronte! Tu dove eri? Tu lo stai facendo per te? Perché sei un egoista e pensi solo a quello che a te conviene. E Don Minzoni non è così. Per questo sono tutti con lui. Sono atti vivi. Sono atti violenti. Ma noi non parliamo il linguaggio della violenza. Prego! E anche quando saranno al potere, quando governeranno il nostro paese da cima a fondo, noi risponderemo con una e una sola arma. Il nostro cuore. Io stanotte voglio farti provare l'ebrizza della paura. Io non parla. Per questo è un vero. Grazie a tutti